Ora parliamo di persone non più giovani che hanno perso il lavoro e che si trovano a dover fare i conti con gli affitti, le bollette da pagare, la spesa e fanno sempre più fatica. Il fenomeno della disoccupazione in età avanzata è in aumento. Il mercato del lavoro per questa fascia d'età non offre molte occasioni e gli ammortizzatori sociali a lungo andare si esauriscono. A Cremona si è formata un'associazione che si chiama Unione Disoccupati Cremonesi che raggruppa diverse persone che hanno perso il lavoro anche da più di un anno e che è presieduta da Amedeo Lauritti che è nostro ospite in studio. Benvenuto. Buonasera. Nostro ospite insieme a Luigi Vigorelli che è segretario della stessa associazione. Buonasera. Benvenuti. Dunque questa associazione è nata con quale scopo? Allora, da sette mesi è nata questa associazione, si chiama appunto Associazione Disoccupati Cremonesi, è nata per aggregare, mettere in contatto persone che vivono il loro stato di disoccupati. Soli, con la loro realtà familiare e sociale, con quella degli altri. Questa iniziativa consente di togliere dall'isolamento l'individuo e lo sopporti ad intraprendere nuovi percorsi attraverso innovative formule di inserimento nel mondo del lavoro. La nostra comunità lo aiuta a riapproparsi dalla coscienza, dalla coscienza sociale. Questo è stato così, è lo scopo della nostra associazione, appunto per evitare che queste persone si siano sempre di più, diventino sempre di più un riccio e di conseguenza portare anche delle malattie a livello personale. Certo. Ecco, le norme e le regole che governano queste situazioni, questi ambiti sono numerose. Possiamo dire che una persona che ha perso il lavoro da molto tempo è una persona svantaggiata, lo dice anche la legge? Certamente, è una persona svantaggiata in relazione alla direttiva europea fatta propria dalle amministrazioni, inserendo questa categoria nella legge 381-91, che norma il lavoro degli pubblici appalti con le cooperative sociali. Quindi, una persona che viene, che è svantaggiata, è svantaggiata grave oltre i 24 mesi di disoccupazione. L'amministrazione pubblica deve certificare, anzi, nelle sue direttive ha emanato questo protocollo e deve certificare queste persone, ma le deve certificare tramite una trasparenza, non con dei metodi assolutamente impropri, con una trasparenza e con delle regole fisse. Quindi voi cosa chiedete all'amministrazione? Noi chiediamo all'amministrazione pubblica che la certificazione e l'inserimento siano regolati per iscritto e non solo con le parole, da regole fisse, scritte che ogni cittadino può controllare, può verificare e si può affidare con tranquillità all'amministrazione pubblica, non con degli atti arbitrari. Voi, infatti, come persone avete delle competenze che potete mettere a disposizione. Non volete sentirvi, vero? Sì. Allora, tra gli iscritti abbiamo parecchie persone che vanno dagli operai, vanno addirittura a geometri, a direttori di industria e tutto il resto. Perciò c'è tutto il mondo del lavoro nella nostra associazione. Quello che noi chiediamo anche è di non diventare un peso ulteriore al comune, perché se ci pensiamo un attimo la persona disoccupata non arriva più a pagare l'affitto, di conseguenza arriva allo sfratto, di conseguenza deve portare le bollette da pagare in comune e perciò al comune questo diventa un peso. Mentre se la persona si riesce mediante la 381, che ho spiegato benissimo qua il mio collega Vigorelli, il sentirci indipendenti significa anche cambiare modo di società, modo di vedere le cose. Quindi una tematica davvero molto importante e molto sentita, questa che abbiamo cominciato ad affrontare oggi. Noi ringraziamo per essere stati i nostri ospiti Amedeo Lauriti, presidente dell'Associazione Unione Disoccupati Cremonesi, e Luigi Vigorelli, segretario della stessa associazione. Grazie per essere stati con noi. Grazie davvero. Grazie a voi e grazie ai vostri spettatori. Grazie.